Assessore alla sanità Nicoletta Verri, buone notizie per l'ospedale di Penne, c'è ancora da lavorare, oggi pomeriggio già nella quinta commissione si saprà qualcosa in più anche per la riorganizzazione della rete ospedaliere della regione Abruzzo. Sì, siamo in dirittura d'arrivo, stiamo riorganizzando la rete ospedaliere in base anche alle criticità che spesso e volentieri il tavolo di monitoraggio ha evidenziato. Noi come nuova giunta porteremo per quanto riguarda l'ospedale di Penne la richiesta del presidio ospedaliero con un pronto soccorso aperto H24, quindi questo va a determinare una valida realtà che darà delle risposte sul nostro territorio perché evidenzieremo quelle che sono le difficoltà a livello geografico di questa area vestina. Le note positive so che appena il tavolo di monitoraggio darà questo assenso andremo a portare delle unità importanti funzionali proprio in base al fabbisogno tipo la medicina, la gastroenterologia, altre realtà, la chirurgia ortopedica. Valuteremo evitando i doppioni. Un reparto di lungodegenza finalizzato proprio a dare l'assistenza alle persone anziane, un'assistenza adeguata e non in sovrannumero in quelli che sono i reparti di geriatria. Noi abbiamo chiesto innanzitutto, abbiamo voluto verificare se c'era una reale volontà politica di riparare ai danni causati da scelte scellerate della passata governatura. Pare che ci sia il progetto che è ancora nella prima fase di stesura, diciamo che va nella direzione che abbiamo sempre chiesto noi. Poi sono in giro chiacchiere, qualcuno ha fatto un articolo su un quotidiano dove si dice che già il ministero ha approvato, non è vero nulla. Questo progetto dovrà passare, sarà presentato adesso ma dovrà passare a novembre al tavolo di monitoraggio che sappiamo essere una mannaia. Non si possono più dire stupidaggi ai cittadini, hanno bisogno di certezze.